Allora passiamo a Gesù in Galilea. Allora qui parla dei primi quattro apostoli, no? Il capitolo 1, 16, dice Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro di me, vi farò diventare pescatori di uomini. Questa è una delle frasi fondamentali, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella mar di Giacomo.